La Lombardia è tra le regioni italiane che ha saputo esaltare di più quella componente della parola terroir legata all'uomo, perché qui effettivamente il ruolo che è stato svolto da imprenditori illuminati, ma anche contadini sapienti, è fondamentale nello sviluppo di un'agricoltura che altrimenti non sarebbe stata così semplice. Quasi tutta la viticoltura lombarda è stata una sfida proprio al territorio sin da tempo antico. E poi la visione. Questo è uno degli aspetti fondamentali per aver poi sviluppato in modo così consapevole e chiaro un percorso di crescita, perché la progettualità della Lombardia forse non ha altri concorrenti in Italia se non probabilmente per quello che riguarda il Trentino e il Sud Tirolo, in cui vengono proprio disegnati dei percorsi comuni per andare a sviluppare ed affermare nel mondo proprio i vini prodotti. La Lombardia è un grandissimo esempio da questo punto di vista. Siamo ovviamente nel nord Italia, senza sbocchi sul mare. Questo va necessariamente a caratterizzare anche il clima, che tendenzialmente è un clima continentale, quindi con un inverno decisamente freddo e un'estate che tende all'umido, con anche picchi di temperatura molto alti, ma con una percezione della temperatura decisamente più elevata. L'umidità lo sappiamo che poi è un po' il nemico dell'agricoltura in generale. E qui c'è sicuramente una nuova sfida. Nella parte sud, quindi quando entriamo all'interno della regione, troviamo poi immediatamente un grandissimo esempio, perché siamo nel piano della pianura padana, in quello che è un territorio di confine, perché tocca l'Emilia, ma poi tocca anche il Veneto. Stiamo parlando del Mantovano. Il Mantovano è un territorio che è diventato famoso per il Lambrusco, o meglio per i Lambruschi, dato che il Lambrusco Mantovano è spessissimo frutto di vari blend, tra cui il Lambrusco viadanese, il Maestri, il Marani, il Ruberti, ma poi anche i Lambruschi che tendiamo ad attribuire di più all'Emilia, come il Salamino per esempio, oppure il Sorbara. Troviamo poi anche l'Ancellotta per esempio, quindi anche altri vitigni minori. E qui tendiamo comunque ad avere un Lambrusco più concentrato. Qua il clima non è molto favorevole, siamo pianeggianti, l'Argine del Po ovviamente costituisce un vettore fondamentale per identificare il tipo di suolo. Abbiamo le Risorgive, quindi quest'acqua di risalita che caratterizza proprio la bassa zona della pianura padana, quindi il sud della regione. Se ci spostiamo più verso ovest, rimanendo però più o meno allineati come latitudine, poi troviamo quello che è il territorio dell'Oltrepopavese. Il territorio dell'Oltrepopavese è un territorio che ha una tradizione molto forte con dei vitigni autoctoni come la Croatina, l'Uva rara, troviamo anche Barbera, Vespolina, e però si è affermata nel tempo per il Pinot Noir, sia in rosso che poi spumantizzato. Tant'è che la regione Lombardia ha 5 DOCG, due di queste riguardano la spumantizzazione e appunto una è rappresentata dall'Oltrepopavese metodo classico, poi abbiamo il Franciacorta metodo classico, ovviamente un'altra DOCG, il Moscato di Scanzo, quindi abbiamo anche una versione dolce per quanto riguarda il mondo DOCG e poi le altre due invece le troviamo in Valtellina dove lo Sfursat, quindi un vino frutto di appassimento e poi troviamo l'altra DOCG invece che il Valtellina superiore, quindi un vino rosso secco ottenuto da Uvechia Vennasca. Ogni modo tornando nell'Oltrepopavese, questa è la culla del Pinot Noir, del Pinot Nero al di fuori della Francia, quindi parliamo di una superficie evitata di circa 3000 ettari che sono veramente veramente tanti, per un metodo classico che tende ad essere un po' più cremoso rispetto alla verticalità a cui siamo abituati per esempio in Champagne o in altri territori italiani. Salendo troviamo verso Milano una piccolissima denominazione che è quella di San Colombano dove troviamo appunto la Croatina che torna a fare un ruolo da protagonista insieme ad altri vitigni minori sempre autoctoni. Non possiamo non dimenticare appunto sempre nel rimanendo in questa zona, quindi qui siamo nell'Odigiano, ma ritorniamo un attimo a parlare dell'Oltrepopavese quello che è il buttafoco, il sangue di Giuda, quindi quelli che sono poi dei vini tradizionalmente lombardi che rappresentano la cultura quasi contadina proprio della Lombardia, ma sono vini che si stanno riaffermando. Rimanendo un po' su quest'asse parallelo, ritorniamo verso il Mantovano. Nell'Alto Mantovano troviamo le colline moreniche che vanno a ridosso del Lago di Garda, quindi qui in realtà i vitigni internazionali giocano un ruolo fondamentale perché abbiamo questo suolo che è molto diverso rispetto all'ex suolo paludoso appunto della pianura padana, ma soprattutto abbiamo anche un po' più di altitudine. Poi discendiamo verso il Lago di Garda e in questa zona andiamo a individuare quella che è la denominazione, la DOC condivisa con il Veneto dell'Ugana, quindi un vino ottenuto dalla Turbiana che è un Trebbiano, ma sempre rimanendo in queste zone poi abbiamo quella che è una grandissima espressione di rosato che è il Val Tenesi, il Chiaretto, che viene ottenuto principalmente da Uve e Groppello. Poi se rimaniamo sempre nella zona entrando in maniera forte in quello che è poi lo spartiacque tra le due denominazioni citate, perché la Val Tenesi parte fondamentalmente da Desenzano e arriva a Salò, abbiamo il San Martino della Battaglia. San Martino della Battaglia, piccolissima denominazione in cui gioca un ruolo fondamentale il Toccai fruleano che oggi però non può essere più chiamato in questo modo, per vini che tendono ad essere un po' meno esili ma che comunque hanno nell'equilibrio una componente fondamentale. Ora il Toccai fruleano è in realtà un vitigno difficilissimo da lavorare. Poi se continuiamo questo percorso e ritorniamo quindi in realtà andiamo verso la Bergamasca troviamo la DOCG del Moscato di Scanzo ottenuta dall'omonimo vitigno. Stiamo parlando di un vino passito, dolce, una delle DOCG più piccole in Italia, qualcosa che deve essere assolutamente tutelato e sempre nel territorio appena fuori dal confine troviamo invece la Val Calepio che è sempre una denominazione, in questo caso una DOC che però fa riferimento allo stesso vitigno, quindi al Moscato di Scanzo. Il Moscato di Scanzo in realtà è un vino che piaceva tantissimo anche ai reggenti in Inghilterra storicamente, è stato uno dei vini più italiani più cari e battuti spesso e volentieri alle aste a Londra in antichità anche nell'Ottocento. Però noi vediamo quello che invece è il successo contemporaneo della Lombardia, rappresentato sicuramente dalla Franciacorta, quindi dalla Curte Franca, dalla zona dove non venivano pagati i dazi. Qui se il lago di Garda gioca un ruolo fondamentale per la Lugana per quanto riguarda Val Tenesi con il suo clima mediterraneo, qui invece abbiamo il lago di Iseo, quando parliamo di Franciacorta, che ha un ruolo fondamentale. Il clima è sì mite, ma in realtà è interessante capire come da ghiacciai poi scende il vento freddo che si scontra con l'umidità della zona, suolo morenico, abbiamo proprio l'anfiteatro morenico e poi delle colline che vanno a contornare con caratteristiche molto differenti di quello che è proprio l'areale della Franciacorta. Siamo sulla sponda sud del lago di Iseo, questo era il territorio del Pino Bianco, poi oggi invece è il territorio dello Chardonnay, del saten ottenuto da Chardonnay e Pino Bianco, ma è anche il territorio della sfida alla champagne, o comunque dei grandi imprenditori che hanno poi trovato, individuato la loro strada per andare a fare delle bollicine in metodo classico, in metodo champenoise, con un'identità che sta diventando sempre più chiara. Questa però è una storia di successo decisamente recente, perché stiamo parlando degli anni 80 che è la corsa alla Franciacorta, ma negli anni più recenti si è trovata forse una dimensione di identità molto più chiara rispetto al passato. Si è messo da parte il Pino Bianco, che era il vitigno principale, anche per andare a fare il Pino di Franciacorta alle prime spumatizzazioni e stiamo vivendo un'evoluzione verso il primo distretto completamente bio all'interno di una DOCG. Che dire, se andiamo però, in questo caso siamo vicino a Brescia, se andiamo però oltre, quindi andiamo a scavallare la città di Milano, arriviamo in quella che forse oggi è la punta di diamante della Lombardia. La Franciacorta, grandissimo successo, ma il 90% della produzione è venduta in Italia. Invece la Valtellina, quindi l'agricoltura eroica di montagna, sta avendo un successo nel mondo incredibile. L'agricoltura eroica, quindi, è una grande sfida. Questa è la zona più terrazzata in Italia. Abbiamo chilometri, migliaia di chilometri, in realtà, di muretti a secco che sono rappresentati come patrimonio UNESCO, ovviamente, perché è un valore imprescindibile. La viticoltura qui è difficile ed è concentrata su un unico vitigno, principalmente, che è il Chiavennasca, quindi il nebbiolo. Rossi scorrevoli per quanto riguarda la DOC e poi nelle due DOCG saliamo con il superiore che fa affinamento in legno e tende a avere comunque un po' più di imponenza, di importanza, ma rimane il tema della grande freschezza e di vini che comunque sono spesso e volentieri quasi sussurrati, fino ad arrivare allo Sforzat, che invece ne rappresenta proprio l'essenza, perché qui abbiamo concentrazione, è un vino ottenuto da appassimento. Queste ultime due sono due DOCG che prevedono affinamento in legno entrambe. Questo è il panorama della Lombardia, un panorama che vede, quindi, anche dei suoli molto differenti. La parte sud è un suolo alluvionale, dove la pianura padana ha giocato appunto un ruolo fondamentale, dove il fiume Po oggi caratterizzano un po' anche il clima. Poi saliamo, abbiamo la parte morenica, che riguarda la Franciacorta, che tocca anche la zona della Bergamasca, e arriviamo fino a quello che poi è invece la Valtellina, dove il granito va proprio a caratterizzare questo suolo compatto di montagna. Ecco, la Lombardia, più di altre regioni, è proprio l'esempio lampante di come l'uomo possa determinare il successo del vino, possa determinare l'agricoltura e possa andare a disegnare quello che è un percorso di crescita chiaro per ogni singola sottozona. Abbiamo una gamma di circa una ventina di DOC unite alle 5 di OCG, abbiamo anche ovviamente dei IGT, ma è tutto molto controllato, tutto molto chiaro, è tutto disegnato da uomini illuminati per arrivare sempre ad esprimere la massima qualità. Grazie a tutti!